Salve a tutti da Caso90, oggi comincerò con una serie di video su Minecraft Dove giocherò in Sea Gold Breaker è una nuova mappa che ho appena fatto in Survival Quindi vediamo un po' di costruire prima di tutto una casa E un letto se riesco a trovare pecore e altre robe Questa diciamo che è la prima volta che starto Minecraft con la 1.0.0 Quindi per me ci saranno novità Sicuramente che mai non ci saranno per voi Che avete già visto altri video eccetera Quindi cominciamo a raccogliere la legna Ok Ah, hanno cambiato i suoni o sbaglio? Sento un suono diverso se... Vabbè, o sono io oppure hanno cambiato dove rispondo Se li hanno cambiati meglio così Ok Disboschiamo quest'albero, leviamo tutto Ok, dovrebbe essere finito no? Ho una pecora Eh sì Vi ho qua che mi serve la lana No Su, non scappare Non lo ucciderò mai così E qua, vieni, vieni No Ok Perfetto Però ok, facciamo una cosa Se no così ci metterai troppo tempo veramente Facciamoci un workbench Lo facciamo qua Lo facciamo qua Sì da Diamo un workbench qua E diamo un po' Prendiamo una ventina E ci facciamo una spada Ok, due Eh ok, la terza è qua Perfetto Credo di potermi creare un letto Perfetto direi Eh, devo salire Ok Posso riprendermi il workbench O il tavolo da lavoro Vabbè Avete capito tutti Comunque sia Vediamo un po' Di cercare una parte riparata Anzi Questo lo rimetto E mi faccio Un'ascia In questo modo E un Sì, farò anche un piccone Giusto Se mi serve così Ce l'ho Ok Distruggiamo il workbench Se non mi sbaglio Si distrugge più in fretta Questa nuova versione Bella quella parte Sì, credo farò la mia base lì in fondo Però prima Devo prendere altra legna Quindi legno, legno, legno Anche se Non so se Terirmi quella come miniera Oppure fare una Una casa completamente in legno Prima Anche perché in legno Ho paura che Che bruci Che bruci malamente Se sveglio qualcosa Ora vediamo No, vediamo No, credo la farò in legno Ok Prendiamo qualche alberello Può sempre servire Ok, distruggo questo albero Sono pronto A crearmi la casa Ok, finito Ok, finito Vediamo un po' Altra lana direi Potrebbe servire Quindi ti uccido No Vieni qua Vieni qua Ok, perfetto Ok Ora posso andare Verso quella No, la tengo giusto come miniera La mia casa La farò esattamente Un altro punto Vediamo Cavolo È lentissimo Sì Andiamo a prendere Il petrolio Sì Petrolio Credo Credo sia petrolio No Ok Vediamo Ne prendo Giusto un pochino Però prima Mi serve Della pietra Ok Ok Mi serve Vediamo Quel workbench Se no Qualcavolo Che riesco A spaccare Quello Bene Piccone Creato Posso riprendermi Il workbench Ok Strupa Strupa qua Questo Mi servirà Per la notte Ok Dove posso Creare La mia casa Eh Mica male Lì Sì Questo Lo tengo Come miniera Ad esplorare Più avanti Sì Vado Vado Lì A fare La mia casa Prendiamo già un po' di viveri Se no Se la fame ci sorprende Siamo veramente Nei guai Ma fa anche il suono Quando prendi L'esperienza Ok Sì Qua mi piace Direi che posso cominciare A fare la mia casa Prendiamo Questo Quello che ci serve Ok Sì Direi che qua va benissimo Anche se aggiungo Questo Qualche cosettina in più Lì in fondo Visto che c'è canna da zucchero Quindi Utilizzerò per fare Foglie di carta O quello che serve Sì Però mi devo sbrigare Perché se arriva la notte Sono nei guai Allora Vediamo un po' Questa parte Sì Lascerò Un certo distacco Tra Tra la mia casa E l'acqua Ok Prendiamo qua Vediamo un po' Uno Due Tre Quattro Sì Così Credo possa andare Anche se Quella voglio fare Un pochettino Più larga Questa è giusta Una casettina iniziale Quindi non so se Sicuramente La farò più grande Tutto Ok Un Tre Quattro Cinque Sei Sette Sì Facciamola così Ok Cominciamo qua Iniziamo con le parti In legno Qua sono anche circondato Da alberi Quindi Direi che va benissimo Come prima a casa Un po' di spazio Per la porta E qua Piazza Il workbench Così Cominciamo a sistemare Qualcosina Si Cominciamo a fare La porta Così so quanto legno Effettivamente mi resta Perfetto Qua rimetto Il legno E continuiamo Vediamo un po' Sì 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 No Qua Così Credo vada Benissimo Però Per essere una casettina Per sopravvivere È la notte Almeno Spero mi basti Il legno Se no vado A rifarlo Ok No a quanto pare Non mi basta Però Già la porta Oh il suono della porta È diverso Ok Vado a fare un po' Di legna Molto blocciamente Su 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 Che si arriva la notte Sono bello che è fottuto Anche quest'albero E poi vado Sì dovrò farmi un orologio Prima possibile Così Riuscirò a capire A che punto sono Della notte Del giorno Eccetera Eccetera Tu vieni qua Perché mi servi Per salire Ok Perfetto Dovrebbe bastarmi Il 54 Dovrebbe bastarmi Per una casettina Non la voglio fare Di chissà quale bellezza Estrema Però Almeno Una bella casettina Deccente Su Non si può fare Così credo Che vada bene Dai Il sole Dov'è Dov'è Ecco Sta tramontando Appunto Quindi Credo di avere Giusto un po' Di tempo Per fare Per tagliare Un altro po' Di legna E chiudere La Uno Due Per salire Dopo Teglio Quest'albero Si Io utilizzo Una tecnica Che Allora Vabbè Credo che Voi La conosciate Tutti Questo Lo lascio Qua sotto In modo Da non Dover Raggiungere Blocchi Dopo Quindi Se non Riuscite A raggiungere L'albero In tutta La sua Altezza Con qualche Blocchettino In più Qua Potete Riuscire A tagliare Completamente L'albero Come ho fatto Qua Bene Quindi Salgo Salgo Aspettate Un attimo Che modalità Solo Normal Da Tenemola Così Per il momento Non lo sapevo Neanche io Ok Quindi Questo qua Così Cominciamo 1 2 3 4 5 Vediamo Su Perché Già a notte Non saliranno Qua spero No Non ce la possiamo Fare Ok No Cominciamo a sbagliare Adesso Qua Venga Spero mi basti Per chiudere Poi è tutto chiuso Sì Ok Cominciamo Se no Guarderò le stelle Oggi Anzi No Non posso andare Neanche a dormire Cavolo Eh Sì Ok Ragazzi Io devo Devo uscire Devo tentare 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 Di prendere Un po' di Lene in più Quindi questo Vai Spacca Spacca ancora Dai veloce Prima che arrivi Qualche zombie Ok Dovrebbero bastarmi Corri 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 Perfetto Dovrebbero bastarmi Così Vediamo un po' Se ho ragione Sì 28 Sono abbastanza Dai Copri tutto Perfetto Giusto in tempo Quindi Posso creare Anche il mio Lettuccio Benissimo E credo Comincerò a fare Qualche torcia Anche Giusto per avere Un pochettino Di Di luce A mangiare Domani Domani Dovrò mangiare Bene Credo Si Avbellisco un po' La stanza Mettendo un po' Di luce Direi che va benissimo Così Metto il letto Bene Posso anche dormire Questa era la Prima puntata Ho costruito una casa Una Una brutta casa Però una casa giusto Per Per stare Allerta Di zombie Che stanno Bruciando Fuori Perfetto La casa Novanta è tutto Alla prossima